musica 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 ok allora apriamo minecraft siamo nella 1.0 il vecchio seed di Herobrine chiusa aprendo questo mondo ho trovato queste croci si vede una lassù e due lì questa qui è al contrario questa è al contrario questa è al contrario si una al contrario e una normale provate a vedere se c'era qualcosa sotto ma non c'era niente non lo so se indicano qualche cosa magari è sotto qua sotto ma questo non lo so qua non ho provato a scavare questi alberi li ho messi io perché era tutto tutto deserto qui giusto per dare un po' di di colore bene vediamo cosa c'è in giro sottotitoli qui in questa versione niente cosa è cosa è successo qui cosa è successo qui questo non l'ho rotto io due 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 alberi tagliati non da me tre un altro albero tagliato non da me cosa sta succedendo cosa sta succedendo un altro qua non ci credo quattro alberi tagliati c'è strana la cosa se intanto questo qua c'è un po' di carne ma la prendo quanta carne da ognuno? due quattro no due tre dipende saranno tutti questi tagliati veramente strano veramente strano questo è solo una bistecca mi ha dato qui vi faccio vedere siamo nella 1.0 qui è della vecchia versione questa versione se cadi nell'altro è un po' di carne è un po' di carne se cadi nell'acqua muore eh vabbè da un punto così alto si non 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 vuol dire, tu sei ancora tozzata. Ah, qua c'era il mob spawner che ho bloccato. Qua cosa c'era? Ah, qua c'è un'altra galleria che ho avuto paura di entrarci. Perché è proprio enorme. Mettiamo una torcia. Mmm, che bel rumore. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ah, poi qua c'è anche un'altra croce. Mi stavo dimenticando. Questa è proprio la prima che ho trovato in assoluto. Eccola qui. Eccola qui. Strana, vero? Questo l'ho fatto per pescare. Vediamo se c'è qualcosa. Ecco. Dove è andato c'è? L'ho tolto da una parte e è andato all'altra. Ci sarà ancora? e sempre l'ho tolto da. Eccolo. Eccolo. Dai. Guardate se vedete qualcosa a voi, magari a me sfugge. Lì cosa c'è? Uno zombie. Sì. 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 Sì.